Salve da Agropalati, oggi tempo anche nuvoloso, fuori piove, c'è nebbia, sto preparando anche tante altre cose a casa, mi sto già organizzando per fare i salumi. Per intanto mi sono preparato anche oggi un piattino abbastanza svizioso con cavolfiori, riso con cavolfiori, ho messo anche del caciocavallo, del formaggio, pepe nero, veramente una delizia. Io in questo periodo mangio più o meno sempre queste cose qua, poi c'è un po' la carne di maiale, ma poi tendenzialmente sempre cicorie, come queste qua bellissime che preparo stasera, le preparo con la pancetta, ecco, ma appena appena un po' di pancetta, quindi mano a mano, mano a mano, sempre più verdure, e quindi io poi da tutta la primavera consumerò solamente frutte e verdure, verdure varie, pochissimi carboidrati, pochissima pasta, pochissima anche carne, dico, appena appena, almeno fino a Pasqua, ecco. Depuriamo che è meglio va.